Filobus, nuovo stadio, aeroporto e ancora la riqualificazione dell'ex tabacchi, il progetto per la casa di Giulietta e la sospirata riapertura del parcheggio San Zeno che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Questi alcuni dei temi caldi toccati dal sindaco Osborne e dalla giunta comunale oggi durante la conferenza stampa, prima della pausa estiva, a seguito della quale saranno tanti gli argomenti sul tavolo da riprendere in mano con l'arrivo dell'autunno. Sì, sarà un settembre, sarà un settembre e poi anche i mesi successivi in cui ci saranno tanti argomenti da portare avanti, quindi si sospende per qualche giorno ma poi si riprende. Il Consiglio Comunale arriverà la variante 23, quindi un intervento urbanistico atteso da tanto tempo e che quindi vedrà la sua compiuta definizione, ma poi ci saranno degli interventi importanti perché per la fine dell'anno partiranno finalmente i cantieri all'arsenale e quindi ci sarà anche lì, i veronesi cominceranno a vedere quello che l'arsenale veramente diventerà. Grande attesa anche per il nuovo stadio di cui a lungo si è parlato e si continuerà a parlare. In particolare il primo cittadino ha sottolineato lo stato precario del Bente Godi che già quest'anno dovrà ospitare le partite del campionato di Serie A con l'Ellas. Ci sarà la questione legata al nuovo stadio che anche quella sta andando avanti e soprattutto perché io lo ribadisco sempre il Bente Godi non è così in grandissima salute, anzi è un eufemismo dire questo.